La sanità della Regione Marche cambia per essere più vicina a tutti i cittadini, garantire le giuste cure e ridurre i tempi d'attesa. Presentata la nuova campagna di comunicazione della sanità marchigiana, che a partire dalle prossime settimane informerà i cittadini sulle principali novità che la Regione sta introducendo all'interno del servizio sanitario, in termini di servizi e opportunità. Due per ora le tematiche, la cura giusta al momento giusto e la presa in carico dei pazienti cronici. Il primo cambiamento è proprio quello di comunicare di più. La sanità è un patrimonio di tutti, spesso appare quasi un fatto relegato ad addetti ai lavori. Invece proprio perché parliamo di salute, per fare bene le cose serve il coinvolgimento di tutti. Useremo di più la comunicazione, non tanto come forma di propaganda, ma come forma di consapevolezza di quello che sta avvenendo, per far diventare partecipi e protagonisti i cittadini. Da una parte il tema della presa in carico è una cosa molto importante, riguarda quattro patologie croniche primarie e l'alato oncologico, che cambia nel rapporto con la sanità perché qualcuno deve prendersi carico di lui, fare le prenotazioni al posto suo, lo specialista, fargli tutto il percorso di cura senza dover inseguire questa o quella prescrizione. Un numero verde permetterà di segnalare ai cittadini ogni volta che non avviene questo, perché ci possano dare uno strumento per correggere il sistema laddove non funziona. Cioè noi vogliamo arrivare a una presa in carico per tutti quelli che ne hanno diritto e attraverso la collaborazione del cittadino saremo in grado di farlo. Secondo aspetto, le liste d'attesa e la biffatura famosa, la crocetta sulle ricette. Ancora oggi circa metà delle prescrizioni che hanno bisogno di un riconoscimento in termini di priorità non vengono segnalate. Questo ci mette in difficoltà sulla programmazione delle risposte a rivista d'attesa perché per metà di queste prescrizioni non sappiamo se la risposta sta o non sta nei parametri ottimali. Quindi attraverso questa campagna di informazione, attraverso i cittadini che possono con il loro medico di famiglia e convincerlo che ogni volta che c'è una prescrizione per una radiografia o d'altro venga segnalato se è urgente, se è differibile, se è programmata in modo che possiamo avere il 100% di ricette segnate e per noi è uno strumento importantissimo per vincere la partita sulle liste d'attesa. Grazie Grazie